La storia dell'arma dei carabinieri lunga 201 anni è stata raccontata attraverso l'esposizione di una mostra sugli equipaggiamenti storici dei militari al Museo archeologico di Teramo. Ad esporre uniformi, copricapo e documenti cartacei rari è stato il collezionista teramano Fabio Del Zoppo, mostra patrocinata dall'assessorato alla cultura del comune di Teramo. Esposizione di uniformi e copricapo d'epoca dell'arma dei carabinieri al Museo archeologico di Teramo curata dal collezionista Fabio Del Zoppo. La mostra come titolo Carabinieri nei secoli fedele e si rivolge ad una nicchia di pubblico fedelissima ad ammirare queste rarità. Intanto tu sei un ex carabiniere e poi con la passione del collezionismo hai collezionato tutte queste belle divise, ma dove le hai trovate? In giro per l'Italia e qualche pezzo anche all'estero. Perché questa passione Fabio? Cosa rappresenta la divisa nel tuo cuore? L'uniforme non è che rappresenti un qualche cosa, tutto è partito tanto tempo fa, sono nato in un'epoca pre-internet, quindi studiando, leggendo, i libri quelli in gialliti si vedevano uniformi in gialliti e mi iniziò ad appassionare soprattutto il periodo coloniale. Infatti non so perché, volevo avere un elmetto coloniale così. E poi troppi elmetti hai acquistato? Sì, poi ho acquisito. Sì, poi un pezzo viene l'altro, un pezzo viene l'altro, poi si iniziano a conoscere delle persone. Si è entrato in un circuito. Ecco, la mossa di oggi che cosa racconta? Racconta la storia, diciamo, abbastanza recente dell'arma dei carabinieri, che va dagli inizi del Novecento fino ai primissimi anni Sessanta. Poi c'è un periodo che mi affascina molto, anche se è un pochettino difficile trovare dei riferimenti storici, che è il periodo dell'amministrazione fudiciare in Somalia. Sono riuscito a trovare dei pezzi, li ho messi in collezione e due pezzi li ho esposti pure. Si tratta della seconda edizione della mostra, dopo quella dello scorso anno, con alcune novità negli equipaggiamenti storici e molte riconferme. L'assessorato alla cultura del Comune di Teramo ha voluto offrire agli appassionati una nuova occasione per conoscere la storia dell'arma dei carabinieri, lunga 201 anni, attraverso le uniformi, i copricapo, i freggi e documenti cartacei. Ci sono molte persone che sono interessate a questa mostra, anche diciamo di nicchia, se così la vogliamo dire. L'anno scorso ha avuto molto successo, ci auguriamo anche per quest'anno, abbiamo deciso di farlo in quattro giorni, per aggruppare e concentrare un pochino la cosa, ma soprattutto abbiamo deciso di cambiare la location e fare tutto quanto su un piano al Museo archeologico per rendere la mostra più fruibile a tutti quanti, magari anche la persona più anziana o che ha difficoltà perché è visitabile in maniera semplice su un piano solo. Ci sarà qualcuno che spiegherà? Allora c'è sicuramente il collezionista Fabio Del Zoppo e poi ci sarà la direttrice del museo che all'occorrenza potrà dare qualche delucidazione e approfondimento su tutti i pezzi. È nato e si è laureato a Roma, dove ha anche conseguito il titolo di dottore di ricerca. Nel 2005 arriva giovanissimo all'Università di Teramo, dove insegna storia del diritto italiano alla facoltà di giurisprudenza. Si occupa tra l'altro di storia dei contratti longobardi, del sistema fiscale del Regno di Napoli e di storia del risorgimento. La sua passione sono però gli aspetti giuridici legati agli usi civici, alle aree naturali protette, alla storia e alla tutela del territorio e del paesaggio. L'Abruzzo per lui è un paradiso, tanto che ha deciso di trasferirsi a vivere nel Teramano, esattamente a Torricella Sicura, ai piedi del Gran Sasso. La serenità e il benessere che trae da questo luogo incantevole rendono poi speciali i suoi corsi. Che studi ha fatto e qual è la sua carriera professionale? Allora, io sono storico del diritto e mi occupo di storia del diritto italiano. Dunque, la mia carriera, io vengo da Roma, mi sono laureato alla Sapienza, ho fatto tutti i miei studi lì, ho fatto il dottorato, poi una borsa di studio, eccetera, e poi ho avuto la possibilità di venire qui a lavorare. E devo dire, è stata anche una scelta di vita perché mi sono immediatamente reso conto che il posto mi piaceva, che Teramo è un posto dove si vive benissimo, dove c'è tutto quello che può servire per una vita di una persona normale, di una persona che lavora. Quindi lei si è trasferito da Roma in Abruzzo a Teramo, a Torricella, che è un piccolo paradiso verde. Ma lei è particolarmente appassionato di questo verde? Ma dunque, io dico che per avere una casa come quella che io ho a Torricella, a Roma, la gente si venderebbe la mamma, come dire, no? Cioè farebbero pazzie le persone, per avere un posto così bello, così verde, col silenzio, col panorama. Ma perché? Ho pensato perché no, visto che lavoro qui a Teramo, che Torricella è distante pochi minuti di macchina, è un posto molto bello e ho detto allora prendo casa lì, sono sei anni che ci vivo, mi trovo benissimo, sono dieci anni che sono a Teramo e non tornerei indietro, non tornerei a Roma. Come giudica l'organizzazione dei parchi abruzzesi? Dunque io credo che abbiano enormi potenzialità, in parte ancora in espresse, però conosco bene le realtà dei parchi, specialmente conosco molta parte del personale che lavora nei parchi, sono persone preparate, appassionate soprattutto, appassionate di territorio, di natura e io credo che ci siano tutte le carte per riuscire a rilanciare l'economia delle aree interne, ma non solo questo, non è soltanto l'economia, è proprio un rilancio della cultura dell'area interna, cultura della montagna, cultura del territorio, che forse è stata finora un po' trascurata. I parchi stanno facendo parecchio e credo che si potrà continuare a contare su di loro per un rilancio, ripeto, che deve essere culturale. Noi ieri abbiamo, l'altro ieri, abbiamo fatto qui un convegno sulle riforme dei reati ambientali, questi eco-reati, di cui si parla tanto proprio in questi giorni, che hanno due facce. Sono dei reati che apparentemente sono di una grave, sono sanzioni importanti e però saranno difficili da applicare ed ecco abbiamo cercato di costruire questo convegno non soltanto sul versante tecnico-penalistico ma anche spiegando i valori ecologici che sono alla base della tutela e della difesa. È stato qui con noi il direttore dell'Arta, dell'Abruzzo, che ci ha spiegato in maniera veramente cristallina i contenuti ecologici che sono oggetto della protezione. Ecco, e quindi sono temi sui quali ci stiamo muovendo. L'Ateneo, in particolare la nostra facoltà, sta già da tempo puntando su queste tematiche, anche in collaborazione con l'Accademia Italiana di Scienze Forestali, che è un'istituzione prestigiosa che ha sede a Firenze, perché crediamo che attraverso, diciamo, mettendo l'Università al centro dei dibattiti su questi temi si possa creare cultura del territorio e anche mediazione di conflitti, formazione, informazione a tutti gli operatori, che sono tantissimi, che si occupano di questi temi. Quali sono stati gli scempi ambientali fatti, perpetrati in Abruzzo negli ultimi anni? Ma, diciamo, i fatti di cronaca ce l'hanno raccontato. Io credo che piuttosto che pensare a quelli che sono stati gli scempi si debba puntare a quello che ancora rimane. L'altro giorno uno dei relatori diceva di tutto questo dobbiamo essere contenti, perché se il legislatore ha pensato di istituire nuove figure a tutela dell'ambiente, perché vuol dire che c'è ancora qualcosa da salvare, c'è ancora qualcosa che non abbiamo distrutto. E in effetti io credo che si debba puntare sulla sanzione, sul recupero, va bene, ma sulla creare una cultura, un amore per il territorio, dell'uso delle risorse responsabili. In fondo noi viviamo in un giardino bellissimo che dobbiamo coltivare e custodire e non si tratta soltanto quindi di sanzionare, cercare i colpevoli, si tratta di creare un atteggiamento. Lei crede che una vicenda come Bussi si potrà ripetere? Io spero, mi auguro di no, nel senso che abbiamo tutti gli strumenti per evitare che si ripeta, quindi credo che no, non si ripeterà, perché adesso siamo sicuramente più avvertiti del pericolo, abbiamo gli strumenti, abbiamo i comitati per le valutazioni amministrative sull'impatto ambientale, la VAS, la via, abbiamo adesso nuovi strumenti di sanzione penale. Io penso che potremmo evitare di cadere un'altra volta in errori di questo genere. E Torricella? E Torricella sta lì, sta bene. Devo dire che non tutti capiscono, specialmente le persone, vedi, tu che sei di qui me lo chiedi, io dico i romani che vengono a Torricella, vedono la casa e rimangono estasiati di Torricella, perché per un romano che è abituato a vivere nel traffico, nella confusione, spostarsi in un posto così bello è l'aspirazione della vita. Per un teramano invece è considerato qualcosa, come dire, di una diminuzio capitis andare a vivere nel contato, andare a vivere quasi in campagna, chissà, e in realtà no, fa parte di questa mentalità che bisogna invertire, bisogna recuperare un'attenzione per il territorio piuttosto che continuare a viverlo come un peso, perché in fondo per generazioni qui purtroppo vivere la campagna, la montagna è stato un peso, ecco, e questo è un aspetto che si nota ancora nella cultura dei ragazzi. Allora viva l'Abruzzo e viva Torricella. Viva l'Abruzzo, sempre viva Torricella, grazie. Grazie di averci seguito sempre con grande attenzione, però restate con noi perché subito dopo Abruzzo Village andrà in onda la rubrica economica Credito Oggi, curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Arrivederci a tutti e buona serata. Buonasera, vi parlerò di Intermedia. Intermedia è una società di mediazione creditizia appena costituita per volere di Intercredit del gruppo Consorform e del Confidi Arte e Progresso, regolarmente iscritta al registro OAM, Organizzazione per gli agenti e i mediatori creditizi voluto da Banca d'Italia, che nasce per risolvere e meglio organizzare le richieste dell'intero parco clienti privati. I privati per Intermedia sono tutte le persone che hanno reddito dipendente, seppur da lavoro atipico, pensionati e familiari dei soci del Confidi Intercredit ed Arte e Progresso. Intermedia agevola i lavoratori dipendenti e le persone fisiche per trovare dei finanziamenti mutui ipotecari, cessione del quinto dello stipendio, leasing o addirittura noleggio a lungo termine ai migliori tassi sul mercato. Lo fa attraverso numerose convenzioni stipulate con i maggiori istituti di credito sul territorio italiano e attraverso delle finanziarie di tipo privato. Intermedia cura l'intera collazione documentale attraverso una rete di professionisti suoi dipendenti per eliminare il tempo dei richiedenti e quindi tutte le difficoltà che si trovano nel reperire carte e documentazioni. Agevolando quindi e velocizzando oltremodo la possibilità di vedersi erogare quanto richiesto al miglior prezzo è sicuramente in un minor tempo. Intermedia si inserisce in un momento di particolare difficoltà di accesso al credito per agevolare i genitori che vogliono aiutare i propri figli nell'acquisto della prima casa oppure nella ristrutturazione o addirittura agevolare le giovani coppie o i neoassunti per l'acquisizione e l'acquisto appunto dell'immobile abitativo oppure acquistare un automezzo anziché finanziare il qualsiasi genere di esigenza familiare. Il ventaglio di prodotti agevolati da parte dell'intervento di Intercredit è molteplice e sicuramente estremamente valido. Pertanto vi invito a venirci a trovare nei nostri uffici in via Molinari 2 presso le sedi del Consorform di Intercredit ed Arte Progresso per riuscire a trovare insieme a voi il miglior prodotto e quello che più calza le vostre esigenze. Buonasera